il problema che non ti rendi conto dalla telecamera quanto è la pendenza in piano sia in salita sia in salita che in discesa o ti metti così e vedi gli alberi si sale di questo scendiamo di lì ok questo bel pezzettone sembra il pezzetto da fare io parto ci vediamo mi aspettate su parto adesso e mi aspettate su eh sì eh dici no io parto per primo e mi aspettate su perché prima che arrivo ciao Grazie a tutti. Alla grande, a zero! Alla grande, a zero! Ehi la! Ehi la! Poi di un fumo come prego Ma meno fumo E' facile Esgotata un po Car Fin F朋友 E Grazie a tutti. 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 Bravo.